Buongiorno Prego Sì, non volessi scrivere la palestra Sei nel posto giusto Benvenuto all'Imperial Fitness Ma tu sai che a me ci vuoi aiuto Io non ci faccio manca la gizana che esce qualcosa che si blocca nel tiro Per quello non c'è nessun problema Vieni qui, ti presento il nostro personal tempo Oh 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 Lo schifidolo In carne Ed ossa Ho perso un'altra in ro vedo Tu non hai visto che il gigito齋za quando cantano si spuso Ho scelto E tu non hai visto che il Nino d'Angelo quando other i ginserano mai ya Non ti preoccupare va eh stai bene quando vai? non sei tornato qui ho scoperto prima di intero venezuela ha già fatto un bello ma non dici no ha già fatto un bello tempo se non puoi fare un po' che non mi fai questo ma che fa non si passa per questi due anni se non vado a scala come a me e papà che non ce la fa? a te per iniziare hai fatto 10 minuti ma benissimo allora vai all'altra all'altra ah oh al piedi al piedi al piedi ma chi è? ma che stai facendo? stai rummando oh è tutto faccio 10 minuti dopo o da fare? faccio 10 minuti d'allenamento non 10 minuti sotto guardate amore guardate amore forza di allenare non la faccia brutta ma guardate a me si fa sul serio vai uno e due non la faccio e non la faccio non la faccio non la faccio non la faccio mi credi? sono stato 15 minuti ho preso di letto ballizzo e quanti fiemi e quanti diverti venta schifito ma se sei sicuro secondo me ti ho fatto 15 minuti ho preso di una piccola della famosa a me che state perito Ma tu qua, hai giocato io, faccio fare l'acido dopo sempre, faccio fare un'altra massa. E' schifitolo, devi fare una bella scala leggera che hai già perduto io. Mi raccomando eh, devi fare una ricca colazione. E' questo ricco proprio, che la macchina è molto forte sotto la macchina. Ma io intendo ricca di proteine. Eh, voglio fare un buon coraggio, un po' come attineggio in un lato, hai già fatto. Tu devi fare una giusta alimentazione e mangiare un po' di pesado, pellevore. Stasera, sei buono da casa, ti mangiare un po' di fesi d'acchio. Ma con la fesi d'acchio, mamma ha fatto una grandaggia presa, no? Siete, otto feli vanno a mangiare a zuppare, però quando a zuppare, no? Perché la cosa, la zuppa che si andava a zappare, uno mogna, ok? Capisce. Scentitità, qualunque tu vuoi fare un bel pesico maestrato, chi sa fare, debba inserirlo. Ma quali serenche? Sono 15 ore, sto facendo serenche, antibiotico, ero solo sul posto, sono guaiato. Non mi spiega la pace. Mi credi? Mi sto cadendo a morire centocente. Gli stanno anche l'ombrolone a fianco a me a scaldi, l'ha già fatta morire. Sì, sì, come, è scritto pure a mister lì, va, centocente. Eh, hai già scaldi tutti spaccati. Senta accorto, capito di spaccato, ho caduto la cosa. Ho capito che tu sei un ragazzo deciso che insegue i loro obiettivi. E quando si mette la cosa in casa, la colpisce. Oh, allora non ne capito proprio niente, me. Devi essere carico, pratico. No, io già non ti spazzliò. Non volare, non volare, non volare. Oh, è vasto, ho scritto da, è l'ultimo che facciamo francesi, non mi spazzate io, che mangiare a morire. Tanto è teo, non mi spazzate io, non mi spazzate io, non mi spazzate io. No.